Come state? Mi piace che vado a tutti i sforzi dalle foto perché sai che tutti ti vogliono vedere. Allora, guardate, com'è lo stile del ragazzo, com'è il ragazzo. Ora ci diventa tutto lungo. Il bello, come sempre, è che quando si vede in televisione, io non lo so se voi siete d'accordo, io credo che poi vedendone tanti, e quegli artisti, quegli ragazzi, che comunque di persona siano sempre più belli, perché non c'è né telecamere, né ombre, e invece vi ricordo la tua bellezza, e ragazzo, un vincitore, signori da te, il vincitore di Amici è qui!